extra possesso per Venezia Dey prova a battere a Radori che difende molto bene costringendo Dey all'errore bravo Pietro e poi fallo di Dey secondo di squadra secondo di squadra con un minuto e cinquanta da giocare nel primo quarto e De Raffaele chiama time out con la sua squadra avanti di cinque lunghezze e dici Grazie